Dimenticatevi per un attimo le renne e la slitta che svolazza in cielo. Babbo Natale a Bassano non è sceso dal camino ma è arrivato al volante di un tir, anzi di 10 camion e per dirla tutta non era nemmeno solo. Inventi vestiti di rosso con barba bianca hanno portato regali e sorrisi ai bambini ricoverati in pediatria all'ospedale San Bassiano. Abbiamo deciso di un po' autofinanziati e un po' aiutati da qualche azienda che produce giocattoli e cancelleria. Abbiamo portato dei pacchetti regalo a tutti i bambini del reparto della pediatria del San Bassiano proprio la sera della vigilia di Natale per fargli vivere la magia del Natale che non potranno viverlo a casa con le famiglie e abbiamo voluto portare un sorriso anche noi. Partiti la sera della vigilia da Tezze sul Brenta, i camionisti volontari dell'associazione Truck River hanno attraversato il Bassanese tra applausi e clacson festanti degli automobilisti e una volta al San Bassiano una delegazione è entrata in reparto per consegnare i doni e ricevere l'abbraccio dei bambini. Abbiamo avuto una soddisfazione immensa, in particolare comunque non lo sapeva nessuno dei pazienti che c'era questa iniziativa. Quindi la sorpresa iniziale, chi un po' più timido che però dopo il sorriso ce l'ha regalato e la più particolare è stata una bambina che al momento è stata la prima bambina che abbiamo gestito diciamo con il regalo e quando stavamo uscendo c'è corsa incontro per ringraziarci perché era proprio la Barbie che aveva chiesto a Babbo Natale quindi è stata una cosa, senza volerlo, però è stata una cosa meravigliosa. Una cosa del genere non l'ho mai vista sinceramente, siamo il secondo, visto in giro siamo i primi che abbiamo fatto con i camion così. Vedere anche la partenza da Terze che siamo andati là, tutta questa fila di camion che va in ospedale e vedere quando siamo arrivati sulle finestre, specialmente sulle finestre sui reparti e tutta la gente che guardava è stata veramente un'emozione da lacrime quasi perché tutta la gente che si fermava per strada, che si fermava con le macchine per farsi passare.